Buon sabato mattina a tutti voi che state passando con me questo sabato e soprattutto che vi state magari svegliando con la mia voce Lucilla Agosti, sono inizio nelle 10 e mi accompagna tutti Claudio Randone e Regia anche io che mi accompagna e mi supporta ma soprattutto il contatto diretto con voi che siete lì 331 80 90 101 Chi c'è di sveglio? Chi c'è?